Ed eccoci quindi pronti qui siamo su in cima oltre Requaro dove siamo esattamente lo chiedo alla signora che ci sta ospitando c'è Chiara Cocco che da più di vent'anni gestisce una bellissima trattoria che è la trattoria ai menarini anche pizzeria ma noi vogliamo chiamarla trattoria perché siamo qui per gli gnocchi anzi si dice i gnocchi alla fioretta dicono gli esperti non gli gnocchi alla fioretta ma dove siamo esattamente siamo ai menarini appena poco fuori da Requaro e località menarini 6 strada per la gazza la strada per la gazza allora questo è il luogo come abbiamo scoperto uno dei primi posti dove si è cominciato a realizzare anche per gli ospiti gli gnocchi alla fioretta una tradizione che è nata nel 1700 all'inizio del 1700 con un duca il duca eugenio di savoia che era al comando dell'esercito di leopoldo primo d'austria che stava transitando per scendere a torino e liberare torino e i suoi parenti savoia dalla occupazione francese diciamo che si fermarono su trovarono la neve maltempo e lì c'era solo a latte e c'erano tante 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 malghe latte si appunto c'era solo latte farina e quindi cosa si inventarono di provare a fare questo impasto fatto con non proprio il latte con la fioretta che viene fatta dopo aver fatto il formaggio il primo prodotto che affiora quindi avevano raccolto questo impastato con la farina sale e hanno visto che era un buon cibo e anche molto sostanzioso anche abbinato al burro di montagna che gli dà il gusto e dopo anche ulteriore insomma i soldati i soldati del 1700 da lì marciarono fino a torino mangiando gli gnocchi alla fioretta da allora nacque questa tradizione che poi dopo la prima guerra mondiale diciamo qui purtroppo ci fu ci furono battaglie sui nostri monti e qui dopo la prima guerra mondiale negli anni 20 proprio in questa contrada menarini nacque un locale al posto che era qui al posto di questa trattoria oggi si chiamava come si cucina alpina ai menarini appunto è proprio il nome si tramanda proprio da quegli anni 20 c'era solo questo stabile allora e qua venivano a mangiare gnocchi notte e giorno mi raccontava la signora quella che gestiva prima che qua bussavano anche notte fonda e si alzavano e passavano i gnocchi per tutti questi viandanti questi alpini che andavano a camminare alpinisti che andavano e venivano anche la notte quando ci fu un grande sviluppo anche a Requaro con le terme e così via allora oggi che cosa fate proponete ancora gli gnocchi e la fioretta che tra poco vedremo con la cuoca sì esatto li proponiamo sempre ci sono sempre tutto il tempo dell'anno anche perché avendo tutte queste maglie qua nella zona di Requaro si ricopre sempre spesso sempre insomma la fioretta e qua appunto chiamano solo per gli gnocchi appena adesso hanno chiamato ho sentito sono testimone telefonate su telefonate di gente che chiede ma sabato e domenica possiamo venire a mangiare gli gnocchi e la fioretta ecco sì noi proponiamo anche altri piatti ma su dieci persone che vengono otto chiedono gli gnocchi sempre comunque quindi sempre di gnocchi siamo esatto ecco perfetto insomma questa è una bella tradizione è una specialità tipica requarese è un prodotto decò adesso è proprio un prodotto che hanno classificato decò infatti facciamo un'azione comunale significa esatto si fa anche la festa degli gnocchi qua a Requaro viene fatta a fine agosto primi di settembre c'è anche una confraternita di gnocchi con la fioretta e sono un gruppo di persone che hanno fatto questa confraternita che dei birboni che assaggiano gli gnocchi che dicono se sono fatti proprio come dio li comanda cioè come vuole la ricetta originale del duca solo fioretta sa logicamente sale e farina e dopo ovviamente o grana o una bella spolperata di ricotta fumicata che è la morte sua non tanto per dire non tutti gradiscono la ricotta fumicata quindi chiediamo sempre noi al cliente se li vuole o non la vuole e poi sono conditi col burro naturalmente è burro di malga e deve essere nocciola deve fare la schiumetta quando si mette sopra i gnocchi e devono essere mescolati con questo burro perché proprio devono devono incorporare proprio il burro intorno e sentire proprio la fragranza della montagna diciamo grazie a chiara crocco e adesso andiamo in cucina grazie a tutti